Juventus Inter 1-1 ma che Juve Inter ancora una volta Simo ancora una volta posso dire che è un pareggio che mi restituisce entusiasmo mi restituisce convinzione nei mezzi che ha a disposizione l'Inter per questo finale di stagione e io dico Simo se non abbiamo tirato fuori il carattere dopo lo scudetto lasciato al Milan l'anno scorso dopo gli errori di questa stagione dopo gli attacchi mediatici continui questa serata con tutto il finale rovente di Juve Inter deve tirarci per forza qualcosa in più io voglio ripartire dall'immagine di Edin Dzeko che indica lo stemma sul petto a tutti i tifosi dell'Inter mi ha gasato un botto Dzeko che va dai tifosi a far vedere lo stemma questo per me è un gesto che vale all'interno di quella che è la partita che abbiamo visto stasera più di mille parole più di mille occasioni più di mille eventi e discussioni tattiche uno a uno una partita in cui ancora una volta secondo me lo zero a zero poteva essere il risultato magari più corretto io ho detto questa era una partita da zero a zero e mezzo perché se proprio doveva esserci una squadra a spuntarla per quel colpo di fortuna secondo me quella squadra doveva essere l'Inter un Inter che in casa della magnificente Juventus esaltata da tutti ancora una volta ha fatto il suo classico gioco io sto lì speculo aspetto e magari poi qualcosa davanti succede perché avendo la rosa più costosa del campionato un minimo si presuppone che davanti qualcosa possano fare di fatto questa è stata la partita della Juventus l'Inter invece in crisi bruttissimi scarsi da buttar via va a Torino su un campo storicamente per noi complicatissimo fa di fatto la partita la fa con la sua sterilità che ci contraddistingue in questa stagione quindi non viene a mancare il diciamo la nota il problema più grande di questa Inter quello dei pochi gol davanti quello purtroppo rimane e ce lo portiamo dietro anche in questa partita in cui però io arrivavo quasi sfiduciato quasi che mi aspettavo di passare questa serata dai togliamoci la prima possibile via il dente via la preoccupazione invece il gol di Quadrado sembrava mettere definitivamente proprio la parola fine poi qui chi lo sa Simo magari corsi ricorsi sliding doors quel Bremer di cui ancora oggi si parla tanto non c'è un calcio di rigore lo trasforma Lukaku ancora una volta su azione si continua a non segnare quindi questo è un problema di cui dobbiamo parlare lo affronteremo più a fleddo sicuramente però dopo il gol di Lukaku succede di tutto le espulsioni la polemica la rissa finale io ci ho rivisto finalmente un moto di orgoglio all'interno di una partita in cui ho visto ancora troppo nervosismo però secondo me questi ultimi minuti almeno la mia speranza a caldo possono aver riacceso quell'orgoglio interista che deve essere la benzina dell'Inter in questo momento ringrazio intanto anche Luca Della Mina per la super chat e lo lasciamo in evidenza grazie Luca no non è che possono deve questa cosa questa finale deve risvegliare l'animo della squadra perché è proprio il tipo di assist che ci poteva servire a fronte di questo finale di stagione al quale purtroppo ci siamo approcciati male arrivando da tante sconfitte perdendo anche la prima del questo famoso mese di aprile super pieno di impegni e di importanza quindi questo questo finale deve questa è la mia la mia pretesa deve risvegliare l'animo che in quei pochi minuti si è visto puro si è visto Ingeco che come dicevi esulta cioè va ad aizzare la curva indicando lo stem ma si è visto negli stessi Lukaku Andanovic che poi adesso approfondiremo però hanno svegliato l'animo se sono riusciti a prendere un cartellino rosso a testa quindi questa cosa per me deve rianimare la squadra e io sono molto contento che sia finita così per come si stava mettendo perché sono d'accordo con te quando dici che questa gara di certo l'Inter non merita di perderla non so se merita di vincerla anche se è di poco o no ma di sicuro non merita di perderla e quindi sarebbe stato un vero peccato perderla per la classica dinamica delle squadre di Allegri che obiettivamente in questo è molto bravo e anche fortunato spesso queste gare un po' chiuse così le portano a casa col singolo episodio che è una cosa assolutamente legittima per fortuna nel finale arriva questo tocco di mano di Bremer che ci dà questo rigore dico questo perché se vogliamo andare nel merito l'Inter dal punto di vista qualitativo non ha fatto una bella partita ma l'Inter degli ultimi periodi non ne faceva di belle partite anche quando giocava spregiudicata anzi siamo in una fase in cui giocando spregiudicati non segni perché purtroppo non segniamo e molto spesso prendiamo gol quindi la mia lettura di questa partita era fino al gol di Quadrado ho visto un Inter molto prudente un Inter che ha provato con i suoi limiti come dicevi tu a costruire a cercare di arrivare in porta non ce l'ha fatta quasi mai ma allo stesso tempo ha subito anche il giusto dietro perché è vero che loro hanno una grande occasione con Milik che se lo mangia però è un Inter che io ho percepito come meno meno fragile oggi difensivamente poi magari è stata solo una percezione ma io l'ho vista così e quindi sarebbe stato obiettivamente un peccato perdere perché poi sai benissimo anche tu quando si perde a prescindere da come si perde la valanga di M su qualsiasi componente del mondo Inter a partire dal tecnico si sarebbe scatenata invece quantomeno il pareggio secondo me un minimo mitiga questa dinamica che sarebbe avvenuta perché ripeto secondo me l'Inter oggi non gioca una bella partita però non meritava di perdere e non merita di essere attaccata come la squadra peggiore del globo perché è andata a Torino stadio a prescindere storicamente difficile contro una Juve che era in grande forma arrivando invece lei da un momento pessimo e è stata in partita fino al novantesimo tant'è che l'ha recuperata e adesso ci giochiamo il ritorno nella partita ideale di Nzaghi cioè la finale secca perché l'uno a uno senza i gol in trasferta è una finale e vedremo cosa accadrà io sì sono abbastanza d'accordo io mi spingo un po' più in là secondo me Simo nel senso che per me questa partita qui se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincerla per me è più l'Inter quindi per me oggi i segnali sono più positivi in questa gara al di là di quello che sarebbe stato poi il risultato nel senso che se l'Inter avesse perso la mia unica preoccupazione la mia preoccupazione grande sarebbe stata dal punto di vista mentale di quelli che sarebbero stati gli effetti altrimenti cioè se arrivava da una Juventus che è in netta serie positiva un'Inter in grandissima difficoltà la prestazione c'è stata secondo me con un'Inter che oggi era la più vicina possibile alla titolare per quelle che sono le circostanze di oggi con un Andanovic al posto di Donana Andanovic ha fatto una buona partita secondo me anzi è stato anche decisivo all'inizio una parata fondamentale su Di Maria dall'altro lato affrontava lo stesso una Juventus che comunque era la Juventus titolare ad eccezione del portiere quindi oggi c'erano tanti elementi che mi facevano pensare come dicevo togliamoci sto dente e vediamo come va sarà l'area della Coppa Italia che favorisce Inzaghi sarà che contro la Juventus abbiamo ritrovato delle motivazioni non lo so io oggi sono abbastanza soddisfatto resta la preoccupazione di questa sterilità offensiva che andrà sistemata spero ecco che già dalla Salernitana si possa rivedere qualcosa di diverso oggi l'interpretazione è stata corretta abbiamo saputo aggirare alcune gabbie tattiche che Allegri aveva messo in mostra già nella gara di campionato quindi è stata studiata bene secondo me la partita ed interpretata in una maniera abbastanza positiva se non appunto il fatto io ho detto io ho la sensazione che i nostri attaccanti siano bravissimi a prendere palla in area e ad uscire dovremmo migliorare magari ecco secondo me fino al novantesimo la grande differenza tra noi e loro è stata proprio in Quadrado che trova quel tiro va a finire proprio tra le gambe di tutti e va in gol Lukaku ha la stessa palla la tira colpisce due difensori fanno quattro carambole e la palla finisce fuori su questo sicuramente bisognerà lavorare ma è il più grande problema dell'Inter che ci portiamo dietro da tanto poi inizia un'altra partita dopo il novantesimo anzi dopo il novantaduesimo arriva un cross di bastoni che sembra innocuo in realtà una palla che viene rimessa in mezzo Bremer di mano la tocca calcio di rigore non viene ammonito ma calcio di rigore e Lukaku batte questo calcio di rigore e si era già visto che la curva dietro Perina era particolarmente attiva nei confronti di Lukaku Lukaku però già da prima secondo me era un po' nervoso e aveva fatto un brutto intervento in ritardo su Gatti che aveva acceso un po' gli animi e Lukaku al momento del gol dopo il gol si vede che va a fare un po' di comunque va a guardare la curva inizialmente si è vista qualche occhiata verso la curva poi però fa la sua classica esultanza quella del dito come è del dito che dice silenzio e mette anche la mano sulla testa classica esultanza che ha sempre fatto sempre fatto con gli occhi chiusi con gli occhi chiusi con gli occhi chiusi non guardando la curva e non è chiaro se appunto si è arrivato in un'espulsione diretta a me è sembrato un'espulsione diretta dalla redazione ci dicono che dovrebbe essere stato doppio giallo doppia munizione quindi era già stato munito prima secondo giallo espulsione dopo questo gesto di Lukaku che viene subito diciamo aggrappato da tutti i compagni di squadra subito chiuso a protezione si accende un diverbio molto forte con i giocatori della Juventus con lo stesso quadrado che continua a provocare continua 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 si prende il giallo Danilo ovviamente rimane impunito in questa in questa rissa si gioca ancora per circa 30 secondi perché di fatto i tre minuti di recupero ripeto tre minuti di recupero ovviamente erano stati dati arriva il fischio finale quadrado va a provocare Andanovic permettimi Simo io un Andanovic che si arrabbia così non l'ho mai visto se non c'è un quadrado che inevitabilmente è andato oltre poi io adesso non sono sicuro di quello che è successo su Lukaku conoscendo diciamo tra virgolette Lukaku io l'ho visto arrabbiarsi così solo quando ha ricevuto determinati tipi di insulti però è una mia supposizione non lo abbiamo per come certezza diciamo che il finale chiaramente va condannato perché queste reazioni non sono mai belle il momento dell'Inter però è delicato posso capire il nervosismo soprattutto quando davanti hai una serie di sbruffoni come questi con tutto il rispetto sì purtroppo per noi che stiamo registrando in questo momento a pochi minuti dalla fine è veramente difficile prendere posizione definitiva perché non sappiamo non abbiamo sentito anche le testimonianze dei protagonisti che adesso arriveranno i microfoni non abbiamo visto tutte le immagini tutti i replay da quello che abbiamo visto noi e da quello che ho visto io che in questo momento sto parlando per me l'espulsione di Lukaku è quantomeno inopportuna nel senso che il ragazzo fa gol ed esulta e come hai detto bene tu non è un'esultanza provocatora verso la curva uno perché la curva non la guarda mentre ha quel gesto lì ma ha gli occhi chiusi due perché e questa è anche la sua esultanza di per sé due perché qualcuno vedevo anche in chat e scriveva pare che dalla curva si erano appunto sentiti anche dei cori dei boo soprattutto dopo il primo fallo quello dove lui prende il giallo e quindi anche lì cioè facevi riferimento prima tu appunto al tipo di reazione secondo me è considerato anche il fatto che appunto è appena stato ammonito ha fatto gol al 94esimo lo stadio sicuramente qualcosa gli ha detto ma anche solo per il fatto che stava calciando un rigore al 94esimo ed è un giocatore dell'Inter cioè ce lo possiamo aspettare secondo me tu arbitro devi avere un minimo di sensibilità in più o fai finta di non vedere o se proprio ammonisci eventualmente quadrado che è appunto quello che non deve andare a rompere le scatole perché quadrado cosa va lì a provocare per quale motivo c'è una squadra che sta risultando perché ha fatto gol se tu vai lì a spintonare a provocare sono problemi tuoi non di Lukaku e perché poi tu crei un problema perché cacci un giocatore che è importantissimo e che poi manca il ritorno è quello il discorso e lo stesso poi per Andanovic come dicevi non lo so le immagini di Medeset hanno fatto vedere finora Andanovic e quadrado che discutono in maniera civile poi l'immagine stacca sugli arbitri che a cui alcuni giocatori danno il 5 e dalla destra rispuntano loro due soprattutto Andanovic che si vede invece molto più inviperito anche lì non avremo forse la risposta perlomeno non adesso però come hai detto tu faccio 2 più 2 il tipo di carattere di Andanovic quel poco che si è visto mi viene difficile pensare che la colpa la prima responsabilità sia di Andanovic e quindi ripeto come dicevo in chiusura di cronaca tu fai gol legittimamente esulti senza esagerare perché appunto Lukaku non ha fatto niente di clamoroso e ti ritrovi con una provocazione una rissa generata probabilmente dalla Juve ti ritrovi con due espulsi contro uno solo dei loro cioè già solo per questo a me sembra paradossale poi ripeto ancora non avendo avuto per ora tutte le immagini tutte le testimonianze magari è successo qualcosa che noi non abbiamo potuto vedere quindi magari questa cosa che ho appena detto tra un'ora tra mezz'ora non vale più però per quello che ho visto fino ad ora mi viene da pensare questo esatto come dice la chat la vedo questa è la sintesi diciamo anche noi chiudiamo qui la nostra clip a parte faremo le pagelle a parte poi un'analisi anche un po' più a freddo adesso ragazzi cercheremo anche di sbollire perché il finale è stato molto caldo anche per noi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando sosteneteci sempre un bel mi piace e se vi va vi aspettiamo su passioninter.club la community dei veri interisti che amano l'inter come noi e che come Geco mostrano sempre con orgoglio il grande logo stemma nerazzurro mi raccomando